A voi tutti ben ritrovati da Giuseppe De Vitis, cari amici di Rete 7, giornata quella di sabato caratterizzata spesso da molte nuvole, soprattutto sul Piemonte, anche sulla Val d'Aosta, un po' su tutto il nord-ovest per la verità, però dicevamo soprattutto sul Piemonte e con della instabilità nelle ore centrali della giornata, ma anche in prima serata, vedete, dei piccoli nuclei anche sui settori sud-occidentali, poi instabilità soprattutto a nord del Poi ed in particolar modo, vedete, verso sera, tra il pomeriggio e la serata, sui settori nord-orientali del Piemonte, quindi anche al confine con la Lombardia, avremo dei temporali altrove variabilità con rischio di fenomeni molto, ma molto localizzati e meno decisi. Guardate le temperature, le minime stazionali, le massime, guardate, saranno comprese tra i 22, 25, 26 gradi, quindi questo è lo scenario previsto per la giornata di sabato, maggior variabilità e anche però della instabilità. Io per ora ho concluso, cari amici, naturalmente ci riaggiorniamo nel prossimo appuntamento meteo, attenzione perché anche domenica potrebbe esserci della instabilità. Ne riparliamo, arrivederci.